dove tutto è possibile, è possibile che un anonimo, e ce ne sono tanti, sotto pseudonimi, sotto mentite sfoglie, possa denigrare chiunque di noi e questa denigrazione fa in un paio di secondi il giro del mondo, è possibile sul mondo internet che si trattino argomenti importantissimi, cruciali per la città, fondamentali, ma si trattano con la solita ignoranza, dove ignorare significa non sapere, di molti a cui spesso è anche difficile controbattere. Comincio subito, perché è un argomento sentito in città, dalla questione Minerva, perché troppa gente, ho visto che purtroppo parla senza conoscere il problema, parla senza connessione di causa, parla senza sapere soprattutto come la politica è continuità e spesso è un problema dell'amministrazione subentrante caricarsi tutto quello che deriva dall'amministrazione precedente.